Le notizie del TG Ora. È scattata questa mattina alle 5 l'operazione denominata Colletti Bianchi che vede impiegati 400 militari della Guardia di Finanza in esecuzione di 34 misure cautelari personali, delle quali 3 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 19 misure interdittive della libertà personale, oltre a 111 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di 83 indagati in 5 regioni italiane. Toscana, Veneto, Lombardia, Campania e Marche. Ad essere coinvolti professionisti, imprenditori e cittadini cinesi e italiani, la maggior parte dei quali residenti nella provincia di Prato. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Prato su richiesta della Procura prevedono la contestazione dei reati di associazione a delinquere, induzione in errore dell'ufficio immigrazione, falsità ideologica nel rilascio di rinnovi di permessi di soggiorno e di immigrazione clandestina. Scontri tra antagonisti e carabinieri ieri sera ad Ercolano, nel Napoletano, un 31enne è stato arrestato per resistenza e altre 4 persone sono state denunciate, sequestrate mazze chiodate, bastoni, coltelli, ginocchiere, droga, materiale propagandistico, insieme ad altri attivisti del centro anarchico vesuviano di Ercolano. Il 31enne Vittorio Sacchi di Napoli, studente già noto alle forze dell'ordine, si era rifugiato all'interno del circolo sin dalla tarda mattinata dopo uno scontro avuto con alcuni appartenenti al movimento Casa Pound. Poi per sottrarsi all'identificazione sono usciti dallo stabile di corsa, travolgendo anche un militare che è rimasto ferito. In quel frangente lo studente è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco che lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno fermato quattro ragazze a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, perché ritenuti responsabili di un violento raid avvenuto ieri sera ai danni di alcuni immigrati, quasi tutti del Mali, in un centro di accoglienza della città. I fermati rispondono di lesioni personali e portodarmi con l'aggravante della discriminazione razziale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Capua, tutto sarebbe nato dal presunto furto di un telefonino che, secondo gli italiani, sarebbe stato commesso da uno dei migranti. Forti di questa verità, i quattro sono andati nell'appartamento che ospitava gli stranieri armati di spranghe e di una pistola con la quale hanno anche sparato due colpi andati a vuoto con lo scopo di terrorizzare gli stranieri. Il pestaggio è andato avanti per parecchi minuti, poi quattro se ne sono andati lasciando alcuni immigrati sanguinanti. Uno degli stranieri, condotto in ospedale, ha avuto 25 giorni di prognosi, gli altri se la sono cavata con contusioni e tanta paura. E questa mattina la seconda udienza presso la quinta sezione di corte d'assise che vede sul banco degli imputati Raimondo Caputo, detto Tito, accusato di essere l'orco e l'assassino di fortuna e la sua ex, convivente Mariana Fabozzi, chiamata a rispondere di omessa vigilanza e di non aver impedito gli abusi sessuali commessi da Tito sulle sue tre bambine. L'udienza di oggi ha visto sul banco dei testimoni tutti i carabinieri che intervennero sul luogo del delitto per le prime fasi dell'inferenzio materno e è stato arrestato, prima in calcere e poi a domiciliari a Baronissi, lontano dai luoghi della piccola per l'uomo. Ieri è giunta anche la sentenza in rito abbreviato, otto anni di reclusione. Di nuovo amici del mito delle nuove sedizioni, per la giornata di domenica 3 luglio 2016 voglio provare esatto stacco.